Seggi aperti per il referendum con cui gli abitanti della Nuova Caledonia sono chiamati a decidere se dichiarare o meno l'indipendenza dalla Francia, nel territorio d'oltremare, che si trova a circa 2000 km a est dell'Australia, da circa 30 anni è in corso un conflitto politico legato alla possibilità di rivendicare l'indipendenza. Il referendum è il terzo sui tre previsti da un accordo firmato nel 1998. Grazie